Il 2022 è stato un anno di cambiamenti per il mondo della scuola. Da pochi mesi si è insediato il nuovo ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha annunciato nel suo programma diverse novità. Tra queste la riforma degli ITS, il docente tutor, i lavori socialmente utili per quei ragazzi che non si comportano in modo adeguato, ma anche no al telefono cellulare con la circolare a tutte le scuole. Insomma, vari progetti, tra cui anche quelli di riforma e di potenziamento. Ne parliamo con il nostro direttore Alessandro Giuliani. Saluti, saluti a tutti. Direttore, il ministro Valditara riuscirà nel corso del 2023 a portare a termine, a sviluppare tutti questi temi? Il percorso possiamo subito dire che inizia decisamente in salita. Abbiamo proprio in queste ore una legge di bilancio che alla scuola non fornisce quelle garanzie, quelle risorse che erano state promesse anche dalla stessa maggioranza. E quindi molto dipenderà a questo punto anche dalla volontà politica per sostenere, mi riferisco in particolare, agli aumenti di stipendio e a quelle riforme, diverse riforme su cui il ministro ha detto di voler puntare. Ecco, gli stipendi degli insegnanti, altro tema caldo, dopo i recenti aumenti verranno incrementati nel nuovo anno? Beh, questo si ricollega purtroppo alla scarsità di risorse presenti nella manovra di fine 2022. Ricordiamo che sono stati stanziati appena 150 milioni di euro, mentre il patto che era stato sottoscritto all'inizio di dicembre anche all'Aaron e quello anche tra i sindacati e il ministro stesso Valditara a metà novembre era di ben altro spessore. Si parlava di incremento di risorse per il contratto 2022-24, ricordo che quello stipulato invece il 6 dicembre del 2022 è il contratto 2019-21, che ha portato incrementi attorno ai 100-120 euro purtroppo lordi a dipendente e quindi anche arretrati anche al di sotto di quelli che erano stati annunciati. Ci sono molte aspettative per quanto riguarda appunto quindi il rinnovo del contratto per gli anni che stiamo appunto vivendo, il 22-23, ma al momento, ripeto, non essendoci risorse, si presume che anche questo contratto andrà ad essere firmato a scadenza e tutto dipenderà dalla prossima legge di bilancio, quella che si approverà tra un anno e francamente è molto difficile pensare che possono arrivare svariati miliardi in un colpo solo e quindi da questo punto di vista possiamo dire che stiamo molto molto indietro rispetto alle attese e quindi non ce la sentiamo di creare aspettative e illusioni nei confronti appunto riguardo appunto docenti e personale ATA. Ecco, abbiamo parlato di contratto della parte economica che è stata siglata, adesso invece è in ballo la parte normativa nelle prossime settimane, è prevista la discussione, si riuscirà a trovare un accordo tra sindacati e ministero in particolare, quali sono le novità in arrivo? Beh, le novità sono diverse da entrambe le parti, ci sono state delle richieste e possiamo dire che solo su alcuni punti sembra esserci sintonia. L'ARAN, che rappresenta la parte pubblica, ad esempio ha chiesto di inasprire le sanzioni disciplinari dando maggiore potere ai dirigenti scolastici e quindi dando la possibilità ai presidi di infliggere quelle sanzioni che al momento invece per motivi più gravi vengono demandate all'ufficio scolastico. I sindacati da questo punto di vista non sono d'accordo, è probabile che quindi questa proposta decada come però potrebbe decadere anche quella che riguarda la possibilità di abbattere il vincolo che riguarda appunto la mobilità professionale ricordiamo c'è una legge, la 159 del 2019, poi modificata che quindi ha portato per il nero messi ruolo l'obbligo di permanenza da 5 a 3 anni che però rimane in vigore e che contrattualmente è difficilmente superabile e quindi anche da questo punto di vista non credo che vi siano grossissime novità benché comunque i sindacati stenteranno questo approccio. Altre novità importanti che ci dobbiamo aspettare sicuramente dopo il Covid un adeguamento di quelle che sono le mansioni del personale a livello soprattutto di interazione didattica e poi sicuramente, su questo invece c'è accordo, dobbiamo aspettarci una novità per quanto riguarda i profili professionali nel senso che soprattutto per quanto concerne il personale ATA sino ad oggi erano state istituite solo sulla carta delle figure di coordinamento che invece dovrebbero essere attuate. C'è sempre la questione dei facenti funzioni di SGA che potrebbe anche avere degli sviluppi a livello contrattuale rimane in bilico il middle management che nella scuola stenta ad essere introdotto malgrado che siano spinte anche da parte dell'ANP e di altri sindacati e associazioni perché ciò avvenga. Parliamo di concorsi e reclutamento. Secondo i sindacati è molto complicato riuscire a diventare docente. Ci saranno in questo senso novità per chi vuole entrare nel mondo dell'insegnamento e poi dopo le problematiche dell'algoritmo riusciremo finalmente ad avere tutti in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico? Beh questo è un tema che veramente potremmo dire lo scopriremo vivendo questo 2023 perché abbiamo una legge, una legge dello Stato, la legge 79 figlia del decreto 36 che ha riformato sia appunto la formazione sia il reclutamento però abbiamo anche assistito a diverse dichiarazioni contrariate da parte dello stesso ministro Valditara su alcuni aspetti anche sull'incentivazione degli insegnanti sul fronte della formazione quindi formazione in itinere e per quanto riguarda invece la formazione iniziale e la selezione quello che possiamo dire sicuramente c'è stato e sarà attuato un incremento dei crediti formativi indispensabili per l'accesso alla professione che quindi da 24 passano a 60 e come anche un po' tutto l'impianto appunto di approccio e di formazione iniziale che diventa più lungo e complicato. Detto questo i concorsi, ve ne sono alcuni ancora da concludere altre le battute finali parliamo di ordinari e straordinari di sicuro non possiamo essere soddisfatti del percorso finora svolto perché rimangono qualcosa come 200.000 rotti posti che vengono assegnati annualmente a supplenza di questi ricordiamo circa 70.000 sono di sostegno e la stragrande maggioranza è in deroga e da questo punto di vista non vi sono novità purtroppo possiamo dirlo perché si tratta di posti che di fatto non potranno essere mai assegnati a ruolo perché collocati appunto in deroga fino al 30 giugno dell'anno successivo e finché non cambierà la norma assisteremo a questa insomma incredibile paradossale assegnazione di quasi la metà dei posti di sostegno a personale precario e questo sicuramente non giova alla didattica speciale e ai ragazzi con disabilità. Stiamo comunque in attesa di sviluppi perché ripeto credo che vi saranno novità se non sostanziali comunque importanti che questo governo vuole introdurre anche sul fronte dei concorsi e delle selezioni del personale appunto per diventare docente e anche per diventare ata e dirigente scolastico. Ricordo tra l'altro che sono quest'anno dovevano essere già anzi banditi nel 2022 ma quest'anno dovrebbero insomma con quasi certezza essere banditi i concorsi per DSGA, il concorso per dirigente scolastico, il concorso anche per insegnare attività motoria nella scuola primaria. Ricordo che sono state introdotte la disciplina all'interno prima delle quinte classi della primaria e poi anche delle quarte e poi anche il concorso riservato ai docenti di religione cattolica. Ecco tutti questi bandi dovrebbero appunto uscire nel 2023 e molto molto dipenderà anche dalla volontà politica perché ciò avvenga. Ecco invece direttore sul fronte della mobilità del personale cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo anno? Beh sul fronte della mobilità quello che dicevamo prima un po' la chiave per capire come cambierà la situazione è quella dei vincoli in particolare per i neoassunti. Abbiamo un contratto che è una sentenza soprattutto che appunto obbliga le parti, il ministero in particolare, a rivedere appunto la contrattazione che si era svolta solo con la CIS di scuola portata a termine lo scorso anno. è stato avviato un tavolo di confronto e io credo che i tempi siano maturi per trovare una soluzione però ecco ripeto tutto ruota attorno all'abolizione dei vincoli e si sta cercando di capire anche a livello ministeriale se effettivamente si può superare la norma attraverso un accordo con i sindacati. Francamente insomma abbiamo noi stessi dei forti dubbi perché ciò possa avvenire e di conseguenza ancora una volta sarà decisivo il ruolo della politica e anche credo dell'accordo dei partiti di maggioranza. Abbiamo tre partiti che su alcune questioni potrebbero non essere in sintonia e quindi insomma dobbiamo capire quale poi delle parti prevarrà e se vi saranno delle mediazioni e se vi saranno anche delle soluzioni da appunto poi prospettare perché il personale da questo punto di vista è fortemente interessato. Ricordo alla mobilità annualmente partecipano tra i 100 e i 200 mila lavoratori della scuola è un numero altissimo, si vuole ridurre però vi sono anche esigenze effettive, esigenze reali di richieste di avvicinamento e soprattutto laddove vi sono dei posti vaganti e disponibili non si comprende perché si debbano negare a volte a madri di bambini piccoli oppure comunque a lavoratori con persone care che quindi assistono in via esclusiva e anche appunto disabili e quindi questo deve essere certamente affrontato e superato perché prima che è un problema della scuola è un problema di carattere sociale e anche se vogliamo umano che va sicuramente affrontato con una soluzione che superi, ripeto, dei vincoli probabilmente ormai anagronistici. Chiudiamo con il PNRR, cosa cambierà per le scuole? Beh, la novità che arriva nelle scuole è che stanno, con il 2023, stanno arrivando una mole di euro mai visti veramente negli ultimi decenni. Abbiamo fatto dei calcoli anche durante le nostre dirette, una scuola media superiore di media dimensione andrà a percepire qualcosa come 250-300 mila euro complessivi tra fondi riguardanti la dispersione e soprattutto il rinnovo delle tecnologie. C'è un grande lavoro da svolgere, un lavoro di rendivontazione, gestione, ci sono delle gare da portare avanti per acquistare i macchinari, ecco tutto questo è in carico alle scuole, le scuole hanno un compito importante gestire al meglio questi fondi, però è anche un'occasione importante per rinnovare le scuole, per dare impulso a una dispersione, anzi al contrasto di una dispersione che continua a essere troppo, troppo alta, attorno al 13%, ci sono delle regioni, dei territori, soprattutto del sud, delle isole dove raggiunge dei picchi anche del 40%, parliamo di ragazzi al di sotto dei 16 anni che poi sono destinati a diventare NIT, ragazzi che non prenderanno mai un diploma di maturità e da questo punto di vista il ministro ha promesso anche incentivi per i docenti tutor, ecco io credo che dobbiamo assolutamente cogliere questa opportunità, le scuole devono essere preparate perché i fondi, così in tanti fondi, così in tanti miliardi alle scuole non sono mai arrivati, ecco non facciamoci trovare impreparati. Bene, allora questi erano tutti i temi del mondo della scuola per il nuovo anno, allora auguriamo un buon 2023 a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i lettori della tecnica della scuola, direttore, che sia un 2023, insomma speriamo positivo. Positivo e ricco di soddisfazioni per i ragazzi, per gli alunni e studenti innanzitutto, ma anche per i docenti e il personale tutto che lavora ogni giorno nella scuola e che merita soddisfazioni. E allora buon anno dalla tecnica della scuola. Buon anno. Grazie.